Prima visita da sindaco di Pescara per Carlo Masci questa mattina all'aeroporto d'Abruzzo. Io sono venuto a visitare l'aeroporto perché, come ho detto, voglio interessarmi di tutto ciò che gravita sulla città di Pescara, a prescindere dalle situazioni comunali. L'aeroporto è fondamentale per l'economia di Pescara e dell'Abruzzo. Noi abbiamo la fortuna di avere un aeroporto a pochi chilometri dal centro della città e dobbiamo incrementarlo. L'aeroporto che io oggi visito è un aeroporto bello, attraente, che ha i numeri importanti e che va verso presenze che sicuramente lo potranno lanciare a livello nazionale ed internazionale. Dobbiamo soltanto muoverci in questa direzione e proseguire nel percorso genesiato affinché questo aeroporto veramente possa confermarsi un volano di economia e di ricchezza per tutto l'Abruzzo. Ad accogliere il sindaco Enrico Paolini, presidente di Saga, la società partecipata quasi totalmente dalla regione che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Paolini ha annunciato che la regione ha messo a disposizione un milione e mezzo per potenziare l'aeroporto e per stabilire nuove rotte. C'è un bando della regione di un milione e mezzo di euro di cui 200.000 euro saranno riservati con apposito bando alle rotte di Catania e Torino. Rotte di Catania e Torino invernali ovviamente perché stive Catania già c'è, Catania comunque rimarrà al momento perché abbiamo convinto Volotea, nel frattempo noi vorremmo ripristinare Torino entro la fine dell'anno. Il resto andrà su rotte internazionali e nazionali e quindi avremo la possibilità nel 2020, come ho cercato di dire e su cosa su cui abbiamo cercato di lavorare, di puntare al milione di passeggeri perché voi capite che con un milione di euro di incentivi ci potrebbero essere l'anno prossimo 6-7 nuove rotte. 6-7 nuove rotte se funzionasse tutto alla fine dell'anno prossimo o al massimo i primi mesi del 2021 potremmo festeggiare il milione di passeggeri. La notizia concreta è che Malpensa va benissimo e che finalmente gli abruzzesi possono volare intercontinentali passando da un aeroporto, da un hub senza scaricare i bagagli.